. Forza ragazzi! Sbrigatevi, forza. Ve l'ho già detto 5 minuti fa. Ehi! Avanzi. Ecco, di nuovo in ritardo. 8 e 40 I mezzi pubblici Ce ne hai uno soltanto per te? Perché sei l'unico in ritardo qui Sai che vuol dire pubblico? Che vuol dire pubblico? Che è un mezzo perpezzente Giusto Vuol dire per tutti Da condividere con altri Tira fuori le tue cose